Memoria d'arte, il simbolo e il messaggio. È il titolo della retrospettiva che Palazzo Mediceo di Seravezza dedica dal 29 ottobre all'8 gennaio all'artista versiliese Guido Cagetti. Cento opere selezionate fra le 1500 inaspettatamente ritrovate dopo la sua scomparsa nel garage dell'artista, frutto dell'appassionata e prorompente dedizione alla pittura di un uomo che ha sempre dipinto per sé stesso e per gli amici più cari. Curata dal giornalista e critico d'arte Lodovico Gerot e dalla figlia dell'artista Michela, la mostra ha il merito di far conoscere per la prima volta in maniera organica e così ampia il percorso artistico di Cagetti, che fu allievo di Arturo Dazzi e di Carlo Carrà e uno dei più giovani ed entusiasti frequentatori del Cenacolo del Quarto Platano e della Marguttiana di Forte dei Marmi. Guido Cagetti era una persona molto in gamba, molto buona, come ho detto molto introversa, era un grande disegnatore, un ottimo pittore e ha voluto per tutta la vita rendere omaggio alla sua Versilia, soprattutto alla sua Versilia. E la mostra che si tiene sia a Querceta sia a Seravezza, gli dice chi fosse stato.